Quali sono le priorità per le idee che si è fatto prima di arrivare qui su? Dove cominciare ad agire? Innanzitutto il nostro lavoro si svolge in tante direzioni per cui è difficile, a volte anche inopportuno, sezionarle e quindi iniziare da uno o dall'altro. Di solito cerchiamo di portarle avanti insieme. Se comunque vogliamo evidenziare quelle che possono essere delle priorità o comunque che hanno una prevalenza rispetto alle altre, è ovvio una città metropolitana come Firenze che ha un livello artistico e culturale fuori dalla norma, insomma al top in Italia e con la visibilità internazionale che ha. E' evidente che quelli che sono gli aspetti di vivibilità cittadina e di massima accoglienza dei turisti che raggiungono 18 milioni di presenze nell'anno è quella principale. Quindi il controllo del territorio e l'attenzione per una tranquilla e libera convivenza dei cittadini e la migliore circolazione sul territorio. Quale sarà invece il rapporto con i tifosi? Il riparto con i tifosi sarà un rapporto normale come avviene in altre parti d'Italia. Il tifoso è quello che va a seguire la sua squadra allo stadio con passione. Avrà da parte mia e da chi ovviamente può determinare questa materia la massima disponibilità affinché la loro, la fruibilità da parte loro dello spettacolo sia la più ampia, massima, la più favorevole possibile. E' ovvio che laddove ci siano problemi per l'ordine di sicurezza pubblica, laddove vi siano delle violazioni, delle norme, delle regole che inficiano la legalità, è ovvio che di conseguenza noi siamo obbligati a procedere e l'impegno sarà da evitare preventivamente che succedano situazioni che oltretutto danneggiano lo spettacolo nel loro insieme. Cioè non c'è un gruppo di tifosi o una frangia che va tutelata più degli altri, ma c'è l'insieme delle persone che possono essere chiamate tifosi o spettatori che vanno a vedere la partita e in questa città metropolitana vi sono due squadre di serie A più tutta una serie di altre compagini che militano nelle serie inferiori. Questa è stata la città anche dove l'attuale premier è stato sindaco, Matteo Renzi. Si parla spesso anche negli ultimi periodi di tagli di servizi al mondo della polizia, delle forze armate. Sente di fare un appello al premier che viene spesso a Firenze di supporto, di aiuto anche attraverso il ministero della difesa ovviamente. Ma appelli non ha senso che ne faccia, è il primo giorno che arrivo perché ovviamente devo approfondire questi aspetti di cui lei parla. Quindi al momento non mi risulta che ci siano grossi problemi a Firenze di carenze di mezzi e di organico, ma le valuterò. Ad ogni modo mi consta che, visto che lei ha fatto riferimento ai tagli, che in realtà negli ultimi due o tre anni c'è una tendenza inversa rispetto a quella degli anni passati che per evidenti motivi di bilancio, di crisi economica, hanno comportato una serie di tagli un po' in tutte le pubbliche e amministrazioni, anche la nostra. Nell'ultimo periodo mi risulta che c'è una inversione di tendenza, quindi una riduzione di questi tagli o addirittura un maggiore investimento soprattutto nei settori peculiari, primari, strategici e con un impegno maggiore dall'amministrazione. Il rischio terrorismo in una città come Firenze, quali sono? Com'è la situazione? Sono i rischi a Firenze, sono quelli un po' in tutto il nostro paese. Ovviamente noi ci distinguiamo rispetto agli altri, altri che purtroppo hanno già avuto diverse manifestazioni di attentati anche gravi con diverse vittime. Quindi è similare a quella che è la minaccia del nostro paese, che è una minaccia sicuramente latente, ma generica, possibile, per cui l'allerta è alta, l'attenzione analogamente è molto presente, c'è un grosso impegno ovunque. È chiaro che se l'obiettivo del terrorista è indefinito e quindi non si può sapere prima dove può avvenire, però presumere in base a tutta una serie di valutazioni è possibile, ci sono dei servizi informativi che possono aiutare su questo. Qui l'attenzione sicuramente è maggiore che in altre parti perché è una città di enorme visibilità, è una città che ha rilevanza internazionale, ma solo questo è l'aspetto che la distingue rispetto al resto di altre località italiane, per cui l'impegno è quello che genericamente ormai da almeno un paio d'anni su questo tema il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è molto attento a controllare, a gestire, a diffondere le sue articolazioni sul territorio. Grazie.